Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè, anche oggi un caso per un tè in pretura, però ve lo metto anche nella playlist dei processi e VIP di Hollywood. Parliamo oggi di Bill Cosby ragazzi, Bill Cosby, che cosa è successo a Bill Cosby, che cosa ha fatto Bill Cosby? Bill Cosby è stato condannato proprio un mese fa e effettivamente se ne è parlato poco, anche a me era sfuggita diciamo questa notizia, ma adesso ripercorriamo tutta la sua storia processuale e tutto quello che ha fatto il magico papà d'America, che da papà d'America si è scoperto essere in realtà un mostro senza scrupoli, quindi sigla e cominciamo. Ah mi sono dimenticata di dirvi, sabato non esce sicuro il video ragazzi, perché per martedì sto preparando il processo di Amanda Knox, è un pochino lungo, perciò piuttosto che fare contenuti fatti di fretta, per qualche tempo non uscirà il video di sabato, quindi gli appuntamenti sono martedì e giovedì. Bene, cominciamo. Questo caso di Bill Cosby sconvolse tutta l'America, perché Bill Cosby appunto era chiamato il papà d'America, non solo per le parti che interpretava, perché sia nelle pubblicità che nelle serie lui era sempre il padre di famiglia, ma anche per l'attivismo sociale che faceva, perché infatti Bill Cosby è cresciuto in un quartiere disagiato di Filadelfia, con un background molto difficile, aveva la madre che faceva dei lavoretti di pulizia e saltuari, il padre che lavorava nella marina militare ma era un alcolizzato, quindi la sua vita, la sua infanzia non è stata semplicissima, quindi lui si era anche posto come, diciamo, il rappresentante della comunità di colore, aiutava i ragazzi a non finire in brutti giri, quindi cercava di salvarli attraverso attività di beneficenza, prevalentemente sportive, cercava di organizzare appunto borse di studio per questi ragazzi, proprio per farli studiare, quindi insomma lui era considerata una persona veramente di cuore, quindi quando poi è uscito tutto lo scandalo di quello che faceva le donne, cioè l'America è rimasta senza parole, lui, diciamo, nella sua vita ha raggiunto l'apice abbastanza velocemente, infatti la madre lo ha sempre educato a non accontentarsi, cioè la madre diceva tu devi studiare, devi andare all'università, infatti lui è riuscito ad andare all'università grazie a una borsa di studio sportiva, perché però poi è lasciato per fare il comico, perché lui voleva entrare nel mondo dello spettacolo, ha iniziato con Barry Cabaret e negli anni 60 addirittura è diventato il primo uomo di colore ad avere una parte da protagonista in una serie televisiva americana, quindi lui ha raggiunto traguardi importanti anche per la comunità nera. Ora vediamo però che cosa è successo, perché ok sappiamo tutti chi è Bill Cosby, ma adesso vediamo chi è veramente Bill Cosby. Il 30 dicembre del 2015 Bill Cosby fu arrestato, lasciando sotto shock tutta l'America, fu arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una donna, di Andrea Constant. Andrea Constant era una giocatrice di basket canadese che lavorava nel dipartimento di atletica della Temple University ed è lì che conosce Bill Cosby. Ora già qui abbiamo un sentore della figura di Bill Cosby, nel senso perché Bill Cosby è riuscito a diventare il papà d'America? Perché lui con le persone si poneva proprio con un senso di paterno, lui faceva da mentore, infatti come vedremo tutte le ragazze che sono finite nelle sue grimpie, quasi tutte, è stato perché lui si proponeva diciamo come figura per aiutare le persone in difficoltà, chiaramente prevalentemente le donne in difficoltà, ponendosi come un padre e un mentore. Infatti questa Andrea Constant fa amicizia con Bill Cosby, a un certo punto, e quindi diventano amici e soprattutto lui si proponeva appunto come suo mentore, e lei a un certo punto passa un periodo difficile perché la sua carriera non riusciva a decollare, aveva perso un po' lo stimolo, non sapeva come andare avanti, quindi Bill Cosby gli dice guarda vediamoci una sera, ceniamo, cerchiamo di capire come possiamo fare, io ti voglio aiutare, eccetera eccetera, quindi lei si reca, questo però non nel 2015, attenzione, questo succede nel 2004, cioè succede 11 anni prima, perché ci vorranno 11 anni prima che la denuncia di Andrea Constant, chiaramente come abbiamo già cominciato a capire col mondo di Hollywood, come era la situazione prima, perché la denuncia diventi poi reale, ma quindi adesso noi qui siamo nel 2004, quindi Andrea Constant va a casa di Bill Cosby, perché appunto Bill Cosby l'aveva invitata per cercare di capire come dare una svolta alla sua carriera per tirarla su di morale, quindi si siedono, Bill Cosby le offre un drink, dopo che insomma le ha offerto questo drink, lei comincia a sentirsi strana, comincia a diciamo gli siene via la vista, si sente stanca, si sente svenire, comincia a sudare, comincia a non capire, più niente fino a che non arriva il buio totale, lei sviene, quindi praticamente lei all'inizio rimane paralizzata, ancora cosciente rimane paralizzata, piano piano poi nel corso dei minuti che passano perde coscienza, ma ha iniziato già a capire che cosa stava succedendo, cioè Bill Cosby la stava aggredendo sessualmente, quindi lei intorno alle 4 del mattino si sveglia nel letto di Bill Cosby con la maglietta tirata su, il reggiseno slacciato e ha alcuni flash di quello che è successo, quindi lei capisce che cosa è successo, cioè che appunto Bill Cosby l'aveva narcotizzata e l'aveva aggredita, quindi lei si riveste al volo e scappa via, ci metterà un anno, ma dopo un anno fa la prima chiamata, quindi nel 2005 fa la chiamata alla polizia raccontando che Bill Cosby l'aveva aggredita, ma getta già il primo campanello d'allarme su quello che poi sarà tutto lo scandalo che uscirà dopo. Ma lei è stata la prima? Assolutamente no, quindi ripercorriamo attraverso le testimonianze delle vittime che hanno appunto testimoniato al processo qual era diciamo sia il modus operandi di Cosby sia tutto quello che è successo perché la sua vita poi piano piano si contornerà di scandali chiaramente. Quindi ripercorriamo dall'inizio, Cosby negli anni 70 era sposato con la sua moglie Camille e aveva due figli, però per lavoro lui girava tanto perché lui oltre a fare l'attore faceva anche spettacoli di cabaret. Già negli anni 70 ricollegando le testimonianze delle vittime si scopre che lui era solito frequentare la Playboy Mansion, cioè la casa di Playboy insieme al suo migliore amico chiaramente Hugh Hefner. Già da qui possiamo cominciare a capire dove Bill Cosby abbia preso a detta appunto dell'accusa la sua diciamo questo modus operandi di narcotizzare le sue vittime. Praticamente dentro questa Playboy Mansion a quanto pare si faceva uso chiaramente di sostanze tra cui ce n'era una in particolare chiamata il metaqualone. Il metaqualone è una sostanza narcotica ipnotica che genera una depressione del tuo sistema nervoso, in poche parole ti paralizza. Quindi si usava già questo tipo di sostanza all'interno della Playboy Mansion e da qui che viene fatto risalire l'origine di quello che saranno poi fondamentalmente le aggressioni seriali di Bill Cosby, tant'è che sempre dalla Playboy Mansion arriva un'altra denuncia di Judy Hutt. Judy Hutt aveva conosciuto Bill Cosby sul set di un film e Bill Cosby gli aveva detto guarda andiamo insieme ti porto a un club di tennis, ci facciamo una seradina lì e finisce là. Invece di portarla a questo club di tennis la porta nella Playboy Mansion. Lì lei le viene fatto assumere il metaqualone e quindi al solito non si ricorda più niente, sviene e si rende conto al risveglio di essere stata aggredita contro la sua volontà. Ora, Judy Hutt era minorenne perché aveva 16 anni all'epoca dei fatti, mentre Cosby ne aveva quasi 40, 35 più o meno. Quindi grazie alla sua di testimonianza sappiamo che Cosby aveva cominciato già dagli anni 70. Infatti che succede? Abbiamo un'altra testimonianza, la testimonianza di Sean Brown. Nel 1972 Sean Brown conosce Bill Cosby e Beverly Hills in un locale e iniziano a ballare. Bill Cosby la invita ad andare in camera per appartarsi, lei gli diceva guarda ma tu non sei sposato, lui dice sì ma mia moglie sta a casa con i figli, abbiamo un accordo, non ti preoccupare. E lei, giustamente dice a me che mi frega, amica era il marito, era mio. Quindi vanno insieme, stanno insieme consensualmente e iniziano una relazione puramente fisica. Quindi erano i classici amici con benefici. Quando Cosby si trovava a Beverly Hills si incontravano, facevano quello che dovevano fare e finiva lì. Tutto questo per più di un anno, fino a che un giorno Bill Cosby al solito risiedeva in una villa di Beverly Hills, chiama Sean e dice guarda vediamoci, quindi lei arriva a casa e vi ripeto loro si frequentavano consensualmente da un anno, quindi qui sta ancora più l'assurdità della cosa, per il fatto che quindi lei entra nella camera di Cosby, Cosby le offre un drink e lei all'inizio lo rifiuta, dice io avevo lavorato tutto il giorno, sinceramente non avevo tanta voglia di bere, già da lì lei dice avrei dovuto avere un campanello d'allarme perché lui insisteva come non aveva mai insistito prima, insisteva che io dovevo farmi questo benedetto bicchiere, quindi alla fine cedo e mi faccio questo bicchiere, infatti su quel momento non mi sono resa conto perché dal primo bicchiere inizio a sentirmi affaticata, stanca, debole, però riesco a berne anche un secondo, tant'è che lei pensava fossero quasi la sbornia, dice ero stanca, magari l'alcol mi aveva preso subito. Col secondo bicchiere lei sviene, lei a quel punto prima di svenire si rende conto di, cioè insomma dice a Bill Cosby, Bill ma che succede? E poi chiude gli occhi, quando si risveglia dei flashback e si rende conto di essere stata aggredita, e quello che dice lei è io non mi spiego come mai, cioè nel senso lei lo dice chiaramente, dice noi avevamo una relazione solo di tipo fisico, a livello sessuale non ci facevamo mancare niente, quindi quale stato lei non riusciva a capire il motivo di questa aggressione, quando lei era già consenziente, ma il problema stava proprio nel fatto che evidentemente lui aveva questo modo, cioè lui voleva sentirsi potente e dominatore, però che succede? Quindi lei lo lascia ovviamente, senza denunciarlo perché chiaramente si trattava di Bill Cosby, lo lascia però è costretta a ricontattarlo qualche mese dopo perché si rende conto che da quella rivolta è rimasta incinta. Lei ricontatta Cosby e gli dice guarda io sono rimasta incinta, Cosby si arrabbia e dice no io sono il papà d'America, questo rovinerebbe la mia reputazione perché ho avuto un figlio o una figlia con una relazione extraconiugale, non me lo posso permettere, non ti azzardare a dare il mio nome, il mio cognome a questo bambino perché altrimenti te la faccio pagare. Quindi lei alla fine si spaventa e dice ok non fa niente, gli ha messo il nome di un altro suo ex, infatti nel 1974 nasce Autumn che sarebbe appunto la figlia di Bill Cosby con questa Sean Brown che però porterà un altro cognome perché appunto Bill Cosby le aveva detto guarda non lo fare. Nel corso degli anni comunque lei testimonia che Bill Cosby ogni tanto mandava qualche assegno di mantenimento in cambio chiaramente del suo silenzio e la cosa sul momento finisce qui e qui quindi abbiamo un'altra testimonianza che ci delinea un po' quello che è il profilo di Cosby. Ma qui abbiamo la testimonianza di un'altra vittima. Cosby ottiene la parte da protagonista nella serie tv E. Robinson. La serie fu un grande successo con una media di 30 milioni di spettatori a settimana ed è lì che proprio diventa ufficialmente il papà d'America. Lui incarnava non solo il papà d'America, lui incarnava quello che è il sogno americano perché lui era un ragazzo di colore quindi in quegli anni partivi automaticamente svantaggiato venendo dai bassi fondi era riuscito a diventare uno dei personaggi più importanti di Hollywood quindi lui incarnava quello che è il sogno americano. Nel 1990 lui è all'apice della sua carriera quindi lui che decide di fare? Decide di diventare mentore e anche qui abbiamo quindi i primi sentori di come lui si poneva come figura paterna e di mentore diciamo alle persone e decide di andare in giro per l'America alla ricerca di nuovi attori. Incontra Lily Bernard, questa Lily Bernard era appunto una ragazza di 20 anni che all'epoca voleva recitare ma chiaramente non avendo grossi fondi dietro era entrata a far parte di questa cerchia di Bill Cosby perché lui praticamente voleva aiutare le persone che non avevano la possibilità che non l'avevano avuta come lui a dargli insomma una spinta in più, un aiuto, una mano non solo a livello di raccomandazioni ma proprio insegnargli a recitare, insegnargli come comportarsi sul set e tutto quanto per cercare di aiutare queste persone quindi si prende a caro questa Lily Bernard. Questa Lily Bernard racconta infatti che Cosby all'inizio era una persona meravigliosa cioè lui non solo si era posto come mentore ma come padre infatti lui diceva tu sei come mia figlia e lui infatti gli aveva promesso una parte dentro allo show dei Robinson, una parte da protagonista e quindi dice ti aiuto io adesso facciamo un po' di giorni insomma due tre settimane ti faccio scuola di recitazione, ti dico come funziona il set in modo che quando arrivi sei già pronta e lei si fida. Aveva iniziato a notare già degli atteggiamenti ambigui perché per esempio gli attori fanno questi esercizi di respirazione e lei si era resa conto che quando faceva questi esercizi di respirazione lui la toccava in maniera un po' strana però quando lei glielo faceva notare perché un paio di volte è scattata e lui praticamente è molto bravo e molto manipolatore dice no guarda perdonami ma che ci mancherebbe io non l'ho fatto apposta tu per me sei come una figlia figurati scusami arriva questa benedetta parte in i Robinson che succede lei il giorno dopo sarebbe dovuta andare appunto sul set a recitare per una settimana alla fine non le ha dato una parte come protagonista però per una settimana quindi diciamo per se non sbaglio una o due puntate lei aveva una parte abbastanza rilevante la sera prima dello show dell'inizio delle riprese lei viene aggredita allo stesso modo perché Bill Cosby per festeggiare insomma si vedono la narcotizza con sempre la classica metaqualone dentro il bicchiere e la aggredisce quindi lei il giorno dopo va sul set e dice a Cosby io mo finisco stasettimana e poi vado immediatamente dalla polizia a denunciarti perché ti devi vergognare lui gli ha detto lui gli ha detto se lo fai la tua carriera è finita perché io sono hollywood quindi se tu lo fai non lavorerai mai più quindi lei si spaventa e non diciamo e non va a denunciare ma nonostante questo dice molte parti dove sapevo che dietro la produzione c'era Bill Cosby mai ottenute lui infatti con questa cosa che voleva essere il mentore dei nuovi attori delle nuove modelle eccetera che insomma voleva anche fondare una sua agenzia e tutto quanto gira l'America alla fine si scopre che le vittime che hanno denunciato sono state più o meno una cinquantina quindi insomma ha fatto tutte con lo stesso metodo nel 92 però succede una cosa agghiacciante la figlia di Cosby Erin accusa Mike Tyson il pugile che all'epoca era appunto all'apice della sua carriera di aver provato ad aggredirla di non esserci riuscito ma insomma lei denuncia pubblicamente la tentata aggressione a quel punto quindi Bill Cosby che fa? Bill Cosby esce in un'intervista perché chiaramente dicono ma lei col che ne pensa delle accuse di sua figlia eccetera e lui da bravo padre dice ma no mia figlia è inaffidabile sicuro se l'ho inventato lui è andato contro sua figlia dicendo che sua figlia era in un periodo in cui aveva bisogno di attenzioni e che quindi quello che diceva probabilmente non era vero non le credeva e che probabilmente il suo amico perché poi erano molto amici il suo amico Mike Tyson non aveva fatto niente di male era lei che aveva immaginato tutto chiaramente perché anche lui faceva le stesse cose pensate un padre che voi andate da vostro padre e dite questa persona ha tentato di aggredirmi il vostro padre dice no te lo sta inventando figurati il 16 gennaio del 97 però succede una tragedia nella famiglia Cosby perché il figlio più grande muore a 17 anni muore e gli sparano infatti viene trovata la sua macchina sul ciglio della strada sulla grande strada di Los Angeles e questo ragazzo con un colpo d'arma da fuoco nel petto e si pensa a una rapina finita male ed è il figlio più grande di Cosby chiaramente la famiglia di Cosby cade in lutto quindi Cosby per un periodo si ritira dopo sei mesi fu arrestato questo ragazzo che appunto si era confessato e si era capito che lui voleva rubare la macchina a sto ragazzo ma al figlio di Cosby ma insomma la rapina è finita male alla fine si è degenerato purtroppo nello meglio di questo poverino ma nella stessa settimana in cui viene preso il colpevole della morte del figlio torna in scena Autumn vi ricordate la figlia illegittima avuta con Sean Brown che va dalla stampa e dichiara dice guardate che io sono la figlia illegittima di Bill Cosby quindi che cosa succede? Bill Cosby la denuncia per estorsione cioè dice questa ragazza sono mesi che mi sta minacciando non è vero che è mia figlia quindi vanno al processo ed effettivamente questa ragazza Autumn viene condannata a 26 mesi di carcere per estorsione lei ha minacciato il padre insomma dice io vado davanti a tutti se non mi dai questi soldi Cosby gli ha detto io a tua madre già gli passo abbastanza soldi che cosa vuoi da me e quindi praticamente lei lo ha detto alla stampa si è scoperto che alla fine era il padre cioè che era insomma il patrigno di questa ragazza che l'aveva spinta a chiedere più soldi a Cosby ma intanto Cosby la denuncia perché di sta figlia non gliene può fregare di meno gli fa fare 26 mesi di carcere però lì c'è la prima macchia sulla reputazione di Cosby perché lei lui ha dovuto ammettere di aver avuto una relazione extra coniugale con questa Sean quindi Bill Cosby insomma dopo il figlio che era morto dopo tutto questo scandalo eccetera decide di ritirarsi dal set nel 2004 torna sulle scene solamente diciamo più che torna sulle scene lui fa il giro delle università o delle comunità per cercare appunto di essere da mentore ai ragazzi di colore e cercare di toglierli da contesti disagiati e quindi si pone come mentore ed è qui che ci ricolleghiamo alla testimonianza di Constand perché nel 2004 lui va a fare da allenatore di baseball dentro questa università e lì conosce Constand lì avviene il fatto che appunto la fa venire a casa eccetera eccetera e che cosa succede? quindi ci eravamo affermati che Constand chiama la polizia nel 2004, nel 2005 un anno dopo l'aggressione per denunciare Cosby le accuse cadono perché non ci sono prove a favore di Cosby chiaramente perché era potentissimo figurati se ti potevi mettere a denunciare Cosby le accuse cadono sul penale quindi lei non riesce ad arrivare al processo penale ma riesce ad arrivare al processo civile riesce ad arrivare al processo civile e il processo civile si chiude con un accordo in segreto quindi nel momento in cui si sono accordati Cosby ha ammesso la sua colpevolezza ma l'accordo rimarrà segreto non sarà possibile capire che cosa ha testimoniato Cosby e quindi la storia si chiude qui ma quindi come si arriva a questo arresto del 2015? praticamente si arriva grazie ad un comico ad un comico di nome Hannibal Barres da questa dichiarazione di Barres praticamente i media cominciano ad accerchiare Cosby cominciano a tornare sugli piccoli scandaletti che sono usciti cominciano a rimettere insieme i pezzi e capiscono che in realtà il papà d'America ha una doppia vita chiaramente queste cose di Hollywood sempre grazie alle inchieste dei giornali perché se aspettavamo la polizia Harvey Weinstein stava ancora là quindi figuriamoci quindi i giornalisti decidono e qui appunto siamo nel 2015 decidono di mettersi insieme e di far pressione al giudice per chiedere la pubblicazione della deposizione di quella causa civile che Cosby aveva fatto con Andrea Constant quindi mentre gli avvocati di Cosby che chiaramente poi vedremo sapevano che c'erano delle cose compromettenti dentro quella testimonianza e quindi dicono no Cosby cioè quello è un accordo civile segreto che volete da Cosby ma i giornalisti vanno dal giudice e gli dicono Cosby è un personaggio pubblico nel momento in cui ci sono delle azioni insomma delle cose è giusto che i giornalisti possano avere diciamo le carte per avere un'inchiesta e il giudice dà ragione ai giornalisti perché il giudice dice Cosby non è solo un attore dello spettacolo Cosby è una persona pubblica impegnata nel sociale quindi nel momento in cui tu diventi una persona pubblica automaticamente rinunci alla tua privacy se sei impegnato nel sociale perché comunque lui appunto aveva contatti con i ragazzi eccetera quindi dobbiamo sapere se sei effettivamente una persona pulita senza precedenti quindi il giudice dà ai giornalisti questa deposizione e i giornalisti pubblicano questa deposizione ovunque perché Cosby dice in quella deposizione delle cose assurde cioè praticamente lui ammette quello che ha fatto ad Andrea Constad ammette che quella sera insomma aveva iniziato a toccarla che c'erano stati degli atteggiamenti ambigui e sotto pressione degli avvocati perché a quanto pare in quella causa civile gli avevano fatto un ottimo contro interrogatorio Cosby aveva ammesso di avere ben sette prescrizioni per questo metacualone quindi da lì Andrea Constad torna e dice sì è successo così e così e dopo di lei denunciano altre due vittime tra cui Judy Hutt quella ragazza che al tempo era minorenne e da lì le prime vittime che parlano parte la scia e iniziano a testimoniare fino a 30 donne e tutte quante dicono la stessa cosa mi ha invitato a casa sua era il mio mentor, il mio amico bla 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 eccetera eccetera mi aveva fatto bere un drink sono svenuta, non mi ricordo più niente e il giorno dopo mi sono resa conto che mi aveva aggredita perché avevo dei flash questa era, cioè Cosby era proprio seriale nella cosa quindi praticamente le uniche due che hanno potuto denunciare sono state Andrea Constand perché c'era stata la causa civile quindi la sua denuncia non era caduta in prescrizione e Judy Hutt perché ai tempi di quello che era successo lei era minorenne tutte le altre chiaramente sono passati tanti anni quindi non hanno potuto denunciare perché il reato era caduto in prescrizione ma hanno testimoniato al processo di Judy Hutt perché appunto loro dicono l'importante è che questo viene fermato non fa niente che noi non ci riprendiamo niente eccetera, non fa niente la nostra giustizia diventa quella di chi riesce a farlo mettere in carcere che succede quindi? la prima a denunciarla è Andrea Constand il problema di Andrea Constand qual è stato? che nel primo grado infatti Cosby fu condannato dai 3 ai 10 anni per aggressione sessuale e si fa 10 anni proprio perché lui si rifiuta di dichiararsi colpevole perché se lui il patteggio era questo si prendeva 3 anni se lui si fosse dichiarato colpevole e avrebbe dovuto seguire dei corsi di rieducazione sessuale che Cosby si rifiuta e dice no sono fesserie io non ho fatto niente di male eccetera eccetera quindi si fa 10 anni ma si va in appello e qui che succede? i giudici ribaltano la sentenza scagionando Cosby questo perché? perché vi ricordate Andrea Constand aveva provato con il processo penale che però le accuse di Cosby erano cadute perché appunto non c'erano prove e quindi lei era andata al caso civile secondo il giudice dell'appello il caso civile aveva già concluso la cosa il penale non l'aveva ottenuto il civile aveva concluso la cosa quindi a detta del giudice Andrea Constand non poteva rifare un'altra volta il penale cioè tutto si era chiuso con l'accordo in denaro con il caso civile quindi dice mo che vuoi raga purtroppo la legge funziona così sono andata a controllare effettivamente effettivamente sì cioè nel senso praticamente lei con la causa civile aveva accettato insomma di rinunciare a tutto nel momento in cui tu accetti un accordo non puoi poi ripensarci e ridenunciare purtroppo quindi Cosby viene liberato ma che succede? c'è ancora Judy Hutt che all'epoca era minorenne all'epoca dei fatti lei riesce ad ottenere solo la denuncia con il procedimento civile ma quindi anche se l'anno scorso Cosby è stato scagionato per come vi dicevo tutto questo cavillo legale dalle accuse adesso il 30 giugno il 20 giugno del 2022 quindi un mese fa è arrivata la sua condanna purtroppo solo in caso civile quindi solo con risarcimento alla vittima però Bill Cosby la sua carriera è finita purtroppo non si è potuti non si è potuto proseguire con il procedimento penale Judy Hutt per non chiedetemi bene che tipo di cavillo giudiziario ma ha potuto chiedere solo il civile e quindi se lui è stato condannato sì però a risarcimento quindi comunque è libero e questa ragazzi è tutta la storia di Bill Cosby da papà d'America a un mostro seriale voi la conoscevate questa storia ditemi che ne pensate io quando all'epoca delle prime accuse non l'avevo seguito tanto poi dopo ultimamente appunto avevo ripreso questo caso e mi ero diciamo rivista tutto quanto per capire che cosa fosse successo quindi praticamente insomma era un pazzo squilibrato perché non si può manco chiamare maniaco cioè era un pazzo squilibrato totale e quindi niente ragazzi il papà d'America il papà di tutti e in realtà aveva in realtà una doppia vita ed era un pazzo quindi niente continuiamo la spunta delle persone di Hollywood che pensavamo fossero brave persone invece non lo sono spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto vi ricordo che sabato non esce il video perché appunto per fare mandare avanti questa rubrica dei processi vi serve tempo perché le nozioni sono tantissime quindi i video sono tantissimi i video insomma le ore di processo quindi ho bisogno di tempo perciò ci rivediamo direttamente martedì è stato un piacere vi auguro un buon giovedì e a questo punto vi auguro un buon weekend e ci vediamo martedì ciao ciao